Il nostro cuore è pronto, disposto Per ricevere la parola del Signore Diamo un affettuoso benvenuto al fratello Arata Lo rivediamo con gioia, lo ascoltiamo con piacere Sapendo che è lo strumento, semplicemente lo strumento Ma è l'iddio onnipotente che lo userà per la sua gloria per ciascuno di noi Dio ci benedica insieme Fratelli e sorelle, pace a tutti E sono gioioso, contento e onorato di trovarmi questo pomeriggio con voi Per celebrare insieme questo culto alla gloria di Dio Leggiamo la parola del Signore È un brano abbastanza conosciuto che si trova nel primo libro dei Re Al capitolo 18 Il capitolo è lungo ma non lo leggeremo tutto Leggeremo la parte essenziale, quella su cui mi soffermerò con l'aiuto del Signore Capitolo 18 dal versetto 30 Allora Elia disse a tutto il popolo Avvicinatevi a me E tutto il popolo si avvicinò a lui Ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito Prese dodici pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe Al quale il Signore aveva detto il tuo nome sarà Israele Con quelle pietre costruì un altare Nel nome del Signore fece intorno all'altare un fosso Della capacità di due misure di grano Poi vi sistemò la legna Fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna E disse riempite quattro vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna Poi disse fatelo una seconda volta E quelli lo fecero una seconda volta E disse ancora fatelo per la terza volta E quelli lo fecero per la terza volta L'acqua correva attorno all'altare Ed egli riempì d'acqua anche il fosso Allora in cui si offriva l'offerta Il profeta Elia si avvicinò e disse Signore, Dio di Abramo, di Sacco e di Israele Fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele Che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo Rispondimi, Signore Rispondimi affinché questo popolo riconosca che tuo, Signore, sei Dio E che tu sei colui che converte il cuore Allora cadde il fuoco del Signore E consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere E prosciugò l'acqua che era nel fosso Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse Il Signore è Dio, il Signore è Dio Elia disse a loro, prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi Quelli li presero Ed Elia li fece scendere al torrente Chison E laggiù li sgozzò Signore, ti preghiamo che questa parola santa e benedetta Vivente ed efficace Possa operare ancora nel nostro cuore questa sera Ti preghiamo, Signore Che questa parola alimenti l'anima di ciascuno di noi E poiché è scritto che la tua parola non torna a te a vuoto Senza avere compiuto prima ciò per cui tu vuoi averla mandata Ti preghiamo, Signore, che questa parola Possa compiere nei nostri cuori l'azione da te voluta e desiderata Te lo chiediamo nel nome di Gesù Benedetto in eterno Amen Quando arriva il momento di Elia Dice la parola del Signore che Elia fece accostare tutto il popolo E la prima cosa che ci viene detta che Elia fece Fu quella di riparare l'altare del Signore che era stato demolito Queste parole ci fanno capire che lì doveva esserci stato Nei tempi passati un altare E questo altare era stato demolito Era andato in rovina Forse perché qualcuno lo aveva demolito Forse perché si era rovinato col tempo Ma insomma diciamo che non era più Nelle condizioni di poter Svolgere la sua funzione Quindi Elia Ripara l'altare del Signore Elia Non utilizza Lo stesso altare dei profeti di Bal Lì avevano preparato il loro toro L'avevano messo sulla legna Ma insomma il toro era rimasto nelle condizioni In cui loro l'avevano messo Perché non era sceso fuoco dal cielo L'animale non era stato bruciato E tutto era rimasto come prima Elia Ripristina Restaura l'altare del Signore Ognuno di noi deve avere un altare nel proprio cuore E ci concede il Signore Che l'altare della nostra vita Non sia un altare demolito Ma sia un altare in piena efficienza Sul quale ogni giorno Possiamo offrire il sacrificio Della lode Dell'adorazione Del servizio al Signore Molti di noi hanno tanti anni di fede I fratelli Qualcuno dei fratelli che mi ha preceduto Ha fatto riferimento agli anni passati Guardando voi Vedo fratelli, sorelle Diciamo di mezza età Di età avanzata Come me Insomma E quindi Molti di noi hanno Decine di anni di fede E Io spero che La condizione di ognuno di noi Che abbiamo tanti anni di fede Sia la condizione di uomini e donne Nelle cui vite L'altare del Signore È in piena efficienza E se per qualche ragione Nel corso degli anni È andato un po' in rovina Qualcosa È andato perso Questa sera Diciamo Signore Voglio restaurare Il mio altare Perché desidero offrire Il mio culto a te Dice la parola del Signore Che poi Elia Prese dodici pietre Secondo il numero Delle tribù Dei figli di Giacobbe E costruì un altare Nel nome del Signore E' chiaro il significato simbolico Delle dodici pietre Una per ogni tribù di Israele A testimonianza del fatto Che egli voleva offrire L'olocausto Per conto In nome di tutte le tribù di Israele Di tutto il popolo di Dio Ora Su questo particolare Vorrei spendere due minuti Per ricordare Qualcosa Chi conosce la storia biblica Sa Che in quel tempo In realtà Il popolo di Israele Era diviso In due stati Il regno di Israele A nord Il regno di Giuda A sud Era una divisione Che era nata Ai tempi di Roboamo Figlio di Solomone E lì Il regno Si era diviso in due E c'erano quindi due re Due eserciti Due Apparati Governativi Ed erano stati Indipendenti A volte A volte Andavano d'accordo Spesso erano in contrasto In lite In lotta In guerra Fra di loro Ma qui In questo momento Elia Prepara un altare In cui ci sono Dodici pietre Anche se lui Si trovava nel regno Del nord Non prepara un altare Con solo dieci pietre Cioè Quante erano le tribù Del regno del nord Prepara un altare Con le dodici pietre In rappresentanza Di tutto Il popolo Di Israele Continua La narrazione biblica Ci dice La parola del Signore Che viene Viene Preparata La legna Messa sull'altare Viene Preparato L'animale Che viene Naturalmente Fatto a pezzi E posto E posto Sulla legna L'olocausto Era quel tipo Di sacrificio Che doveva essere Completamente bruciato Doveva essere Completamente arso Sull'altare Sopra il quale Veniva offerto Ed è Naturalmente Un sacrificio Che simboleggia La consacrazione Della nostra vita Che deve essere Una consacrazione Totale Una consacrazione Che deve Riguardare L'intero Essere Nostro Il corpo L'anima E lo spirito Una consacrazione Che deve Riguardare La nostra Completa Esistenza Per cui Dalla mattina Alla sera Ci sentiamo Figli di Dio Sempre impegnati Nel servizio Nel servizio al Signore Anche quando Non siamo In chiesa Anche quando Non stiamo Svolgendo Un servizio Prettamente Tra virgolette Spirituale Io ho fatto Il servizio militare Molti anni fa Ero ufficiale Di complemento E insomma In quel tempo Poi a un certo punto Sentivo dire Agli ufficiali superiori Che Gli ufficiali Non vanno mai In congedo I soldati semplici Vanno in congedo Ma gli ufficiali Non gli ufficiali Restano sempre Come dire In servizio Ora In realtà Io ho finito Il tempo Del servizio militare Non ho più svolto Nessuna funzione Che avesse a che fare Con la vita militare Però Voglio dire I figli di Dio Veramente Siamo sempre in servizio La consacrazione Completa Della nostra vita In ogni tempo In ogni luogo In ogni circostanza E quindi L'animale Fu preparato Poi Dice la parola Del Signore Che Elia Fece Versare Su questo animale Su questa legna Dell'acqua Quattro vasi d'acqua Sull'olocausto E sulla legna Poi dice Fatelo una seconda volta Fatelo una terza volta E Nel versetto 35 Dice che l'acqua correva Perché naturalmente Quest'acqua versata Cadeva Dall'animale Alla legna Dalla legna All'altare Tutto a terra Ed egli Quindi Lo stesso Elia Riempì d'acqua Anche il fosso Un fosso Che aveva fatto Diciamo Realizzare Scavando evidentemente E naturalmente E naturalmente Non ci sfugge Il significato Simbolico Di questo gesto Il Signore Desidera Cuori Netti Il Signore Desidera Il nostro servizio Che possa essere Un servizio Di persone Che sono Purificate Pulite Pulite Con la nostra coscienza Allavata E non tanto Dall'acqua Quanto Dal prezioso sangue Di Cristo Gesù Ma questo gesto Voluto Da Elia Mi ha sempre Fatto pensare Anche ad un altro Significato E a un altro Scopo Che era Quello Di Dimostrare Al popolo Naturalmente Elia Stava agendo Per fede Egli Avrebbe pregato E si aspettava Che il Signore Avrebbe Consumato L'olocausto In un modo Miracoloso Facendo scendere Fuoco dal cielo E quest'azione Da lui Comandata E da lui stesso Eseguita Voleva avere Il significato Di dire Non ci saranno Trucchi Nessuno Dovrà Dire O potrà Dire Che forse L'animale O la legna Ha preso fuoco Per autocombustione Nessuno Dovrà Dire Che forse Qualcuno Nascosto Dentro l'altare Ha acceso In qualche modo Qualche fuoco Che si è propagato Tutta quest'acqua Versata Sull'animale Tutta quest'acqua Versata Sulla legna Tutta quest'acqua Che circondava Addirittura L'altare Riempendo il fosso Era una chiara Dimostrazione Che lì non poteva Esserci nessun Trucco E se E se Quell'animale Avesse Preso fuoco Fosse stato Ingenirito Non poteva Che essere Per la potenza Di Dio L'acqua Correva Attorno all'altare Dice la parola Del Signore Ed egli riempì D'acqua Anche il fosso Nessuno Avrebbe potuto Mettere in dubbio Che lì c'era La manifestazione Della potenza Di Dio E quando ogni cosa Alla fine È preparata Elia Invoca il Signore Colpisce No Il contrasto Tra Le ore Le ore Passate In Non direi Neanche preghiera In invocazione Da parte Dei profeti Di Baal E la brevità Della preghiera Di Elia Lì se nantarono Ore intere Tutta la mattinata Un pomeriggio Per invocare Baal E non ci fu Dice la parola Di Dio Né voce Né risposta Elia disse Poche parole Non so Può darsi pure Che disse Qualche parolina In più La parola del Signore Avrà anche Ristretto Il testo Di questa parola Ma Percepiamo immediatamente Che la preghiera Di Elia Non fu una preghiera Lunga Perché non c'è bisogno Di usare tante parole Con il Signore Il Signore Legge il nostro cuore Sa Vede Ma fu una preghiera Intensa Fatta con il cuore Fatta con fede E Elia chiede al Signore Signore Manifestati oggi Fai vedere Che tu sei L'Iddio potente L'Iddio che risponde Dal cielo Fai vedere Che tu sei L'Iddio che converte I cuori Perché la conversione Dei cuori Non è l'opera Dell'uomo Non è la capacità Dell'oratore Del predicatore Del profeta E l'azione Dello Spirito Santo Dacci questa dimostrazione Oggi Si veda che io Sto parlando Nel tuo nome Ma si veda soprattutto Che tu sei Il Dio di Israele E dice la scrittura Che Allora Alla fine di questa breve preghiera Cadde Il fuoco Del Signore E consumò L'olocausto La legna Le pietre La polvere E prosciugò l'acqua Che era nel fosso Immagino Ad una potente fulmine Una saetta Che scese dal cielo Per fare Quello che abbiamo letto Questo fuoco Che scende dal cielo Questa energia Immensa Potente Che si manifestò Che bruciò In cenerì L'olocausto L'animale La legna Ma dice addirittura Anche le pietre Anche la polvere Tutto fu sbriciolato Incenerito Dalla potenza Di questa energia Che scendeva dal cielo Gloria a Dio E il popolo Non poteva fare altro Che dire Il Signore è Dio Il Signore è Dio Gloria al nome santo Del Signore Fratelli e sorelle Noi crediamo Che Questa potenza di Dio Che si manifestò In questo modo Con questo Diciamo Evento Per certi versi Naturale Ma al tempo stesso Soprannaturale Noi crediamo Che questa potenza È sempre nelle mani Del nostro Signore Nel giorno della Pentecoste Scese fuoco Dal cielo Scese lo spirito Dal cielo Si presentò come Lingue di fuoco Che si separarono E si posarono Su ognuno Dei circa Centovente Che erano riuniti Nell'alto solaio E sebbene In quel giorno Non ci fu Nessuna persona Grazie a Dio Per questo Nessun incenerimento Però sappiamo Che questo fuoco Produsse un glorioso Risveglio Una gloriosa Un glorioso Potenziamento Per cui Da quel momento In poi Quegli uomini Che prima Erano timorosi Ignoranti Incapaci Inabili Diventarono strumenti Gloriosi Nelle mani Di Dio Per poter Propagare L'Evangelo Fino ai Quattro canti Della terra E crediamo Che questa potenza Anche per oggi Amén La potenza Del Signore Non è venuta A meno Possono a volte Variare Le manifestazioni I modi I luoghi I tempi Eccetera Ma la potenza Del Signore È sempre Tutta nelle sue mani E noi Continuiamo a desiderare Che questa potenza Si possa manifestare Sopra di noi Potremmo parlare Ancora a lungo Sul significato Il valore Del fuoco Il fuoco Che illumina Il fuoco Che riscalda Il luogo Il fuoco Che brucia Che consuma Ma un'ultima riflessione Desidero fare Sottoporre Alla vostra attenzione È una cosa importante Vedete Elia Fece un certo lavoro Per così dire Preparatorio Restaurò L'altare del Signore Presa le dodici pietre Le sistemò In modo che si formasse Un altare Prese la legna La sistemò Sopra l'altare Prese l'animale Lo togliò a pezzi Lo mise sopra la legna Fece versare l'acqua Come si è detto Perché non ci fossero dubbi Sulla manifestazione Della potenza di Dio Preparò ogni cosa Fece ogni cosa E poi E poi prego il Signore E chiese La manifestazione di Dio È una lezione importante Per noi Noi siamo chiamati A preparare ogni cosa Siamo chiamati A sistemare al meglio Tutto ciò che è In nostro potere Ma poi Abbiamo bisogno Della manifestazione Di Dio Fratelli Siamo chiamati A fare del meglio Nelle nostre case Nelle nostre famiglie Cercare di organizzare Al meglio La vita Delle nostre case Nella gestione Dei rapporti Tra marito e moglie Moglie e marito Figli e parenti Siamo chiamati A fare del nostro meglio Nel nostro mondo lavorativo Siamo chiamati A fare del nostro meglio Nella chiesa Nella comunità Organizzare il lavoro Le attività della comunità Nel miglior modo possibile Ma quando abbiamo finito Di organizzare Abbiamo bisogno Del fuoco Dello Spirito Santo Abbiamo bisogno Che il Signore Si manifeste Con la sua gloria Perché altrimenti Tutto il nostro impegno Tutta la nostra preparazione Tutta la nostra dedizione Tutta la nostra saggezza Sarà pure Una bella cosa Ma se non c'è L'azione Dello Spirito Santo Rimane qualcosa Privata Della cosa più importante Che è appunto L'opera del Signore E allora Cari fratelli Care sorelle Ognuno per la nostra parte Andiamo avanti Andiamo avanti Servendo il Signore Andiamo avanti Cercando la faccia di Dio Andiamo avanti Sistemando l'altare Della nostra vita Purificando la nostra vita Consacrandoci O riconsacrandoci A Lui Cercando di essere utili Nel regno di Dio Nell'opera del Signore Ma non dimentichiamo Di gridare al Signore Di cercare la faccia Del Signore Perché L'azione Dello Spirito Santo Benedica Completi Fortifichi Potenzi Quello che Con il nostro Desiderio Con la nostra Buona volontà Con le nostre capacità Siamo in grado Di organizzare Di sistemare C'è bisogno Dell'azione Dello Spirito Santo E io so che il Signore Con il suo Spirito Santo È presente anche in mezzo a noi Questa sera Gloria a Dio Io non so se Nel momento attuale Che stiamo vivendo Non so I vostri bisogni I vostri desideri Le vostre richieste A Dio Per le vostre case Per il vostro lavoro Non so se State pianificando qualcosa E se vi siete posti Se vi siete posti La domanda Di dire Quello che sto facendo È secondo la volontà Del Signore Mi sto muovendo Nella volontà di Dio Mi sto muovendo Secondo l'insegnamento Della parola del Signore Questa è la prima domanda Che ci dobbiamo porre Se siamo certi Che ci stiamo muovendo Nel rispetto Della parola di Dio Nell'osservanza Delle indicazioni Del Signore E allora andiamo avanti E presentiamoci Dinanzi al Signore Per dire Signore opera tu Non so se vi state ponendo L'obiettivo davanti Di dire Signore Io sto mettendo Del mio meglio Sto facendo del mio meglio Ma ho bisogno Della manifestazione Della tua gloria Io sto facendo Del mio meglio Nel preparare L'elezione Per i bambini Della scuola dominicale Sto facendo del mio meglio Per portare i giovani A sviluppare Una certa attività Sto facendo del mio meglio Per creare un gruppo Che possa suonare Cantare per la tua gloria Per preparare Un gruppo Che possa svolgere L'attività evangelistica Sto facendo del mio meglio Stiamo facendo Del nostro meglio Ma abbiamo bisogno Della manifestazione Della tua gloria Abbiamo bisogno Che scende il fuoco Dal cielo Perché la nostra offerta Il nostro olocausto Possa ricevere Il sigillo Della tua benedizione Dire Il Signore Ha gradito L'opera nostra Il Signore Ha accettato Quello che abbiamo fatto E certamente Darà ancora Grande benedizione E grande risalto All'opera sua Addio Sol Savio Sia la lode La gloria Per Gesù Cristo Nostro Salvatore Benedetto in eterno